Ecco la strada che abbiamo percorso, la strada che è dietro a noi, ora siamo più altruisti, ora noi siamo buoni assai. Ecco la strada che abbiamo percorso, la strada che è dietro ormai. Han capito la lezione, ora sono buoni assai, ora si son più altruisti, ora noi siamo più altruisti, ora noi siamo buoni assai. Grazie a tutti.